Crescono le stiliste in Lombardia e a Como, conosciuta in tutto il mondo per la produzione tessile, le donne imprenditrici nel settore sono quasi mille. Secondo i dati della Camera di Commercio, nella regione sono 13.000 le imprenditrici su 93.000 in Italia e quasi un'impresa del settore moda su due è guidata da una donna, sia in Lombardia che in Italia. Sono sempre più le designer, con un aumento del 10% delle imprese a Milano in un anno e del 5% in Lombardia e in tutto il territorio nazionale. La principale sede di impresa è il capoluogo Meneghino, con 4.398 aziende con quasi 10.000 addetti, seguito da Brescia con 2.000, oltre 1.000 a Bergamo e Varese, quasi 1.000 a Como. Questi dati, ha dichiarato l'assessore alle politiche per il lavoro del Comune di Milano, Cristina Tajani, dimostrano come, puntando su politiche del lavoro, siano esse pubbliche o private, volte a conciliare la vita professionale e parentale, sia possibile avere anche in Italia tassi d'occupazione femminile simili a quelli delle maggiori capitali europee. Ha commentato i dati anche la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Milano, Monsebrianza Lodi, Marzia Maiorano. Promuoviamo il tema dell'innovazione ad etto centrale per mantenere e rafforzare la nostra competitività in un settore importante per il Made in Italy nel mondo. Grazie a tutti.